Specchietti divelti e auto danneggiate nella notte del 25 settembre in via Schiavonetti. La polizia di Bassano ha identificato il responsabile dell'atto vandalico. Si tratta di un 26enne di Etienne che alle due e mezza di notte, insieme a un gruppo di giovani, ha riversato la sua rabbia sulle auto in sosta, causando ingenti danni. Dove non riusciva con le mani, ci ha messo i piedi, il risultato è quattro specchietti rotti, scaraventati su per il muro e auto danneggiate in maniera abbastanza grave. Come siete risaliti alla persona che ha commesso questi atti vandalici? Non è stato facile, ma la nostra polizia giudiziaria ha lavorato solo. Da lui siamo passati ad altri soggetti che erano con lui nei bargoldi preserali. Uno di questi era la residente di Bassano che noi conoscevamo benissimo. Da lì siamo risaliti a tutta la catena. Per il 26enne è scattata una denuncia e l'obbligo di risarcimento dei danni.